Simone Conti, responsabile vendite del gruppo Pampaloni, si rinnova la partnership tra gruppo Pampaloni ed Emma Villas UB Siena, una partnership di lunga durata. Allora, cosa possiamo dire di questo rapporto speciale che esiste fra queste due realtà? Il nostro rapporto ha inizio sei anni fa, quando Emma Villas si è trasferita sportivamente presso la città di Siena. Siamo presenti sulle divise di questi atleti già da tre anni e siamo molto contenti di poter proseguire questa partnership con un marchio serio. Siamo felici che il marchio Pampaloni sia abbinato al marchio Emma Villas e facciamo i nostri migliori auguri per l'annata sportiva. Sono due realtà importanti, molto presenti nel territorio. Tra l'altro qui è venuto stamattina un giocatore come Filippo Ciulli, che è di Poggi Ponzi, quindi è del territorio. Quindi sono due eccellenze della provincia senese che si incontrano e che vanno avanti in questo percorso, come dicevi, da sei anni ormai. Noi diciamo che la nostra prima sede abbiamo il salone di Siena in via Massetana, ma siamo radicati a Poggi Ponzi ormai da quasi 40 anni anche qua. È un sito molto importante questo qua che produce circa 500 vendite l'anno e avere Filippo come testimonial del territorio di Poggi Ponzi, ma di tutta la Val d'Elsa, è una cosa che ci fa estremamente piacere. Siamo fieri e felici che un nostro, un cittadino, possa calcare questi palcoscenici e difendere i colori di Emma Villas e difendere anche i nostri colori perché siamo partner ormai da, come dicevamo prima, da sei anni. Simone, è importante stare vicino a una realtà sportiva del territorio e per quanto ti riguarda, insomma, quanto sei legato anche personalmente al mondo dello sport e anche al mondo del volley. Ti abbiamo visto fuori palleggiare anche in bello stile con i giocatori senesi. Il mondo dello sport è molto importante. Noi abbiamo sempre abbinato, diciamo, la nostra comunicazione a livello locale su tutte quelle che sono le società sportive e per motivi di ritorno di immagine, ma anche per un motivo sociale. Cerchiamo di stare vicino a molte associazioni sportive del territorio. Noi, fra le altre, abbiamo sponsorizzato il San Gimignano Calcio, il Tavarnelle San Donato, il Poggi Bonzi Calcio, il Calcetto Poggi Bonzese. Abbiamo fatto la Virtus Foggi Bonzi, mi sembra abbiamo fatto anche la Polisportiva Mazzola. Quindi, ecco, cerchiamo di stare vicino a tutta l'intelaiatura dello sport locale. Chiaramente il fiore all'occhiello della nostra comunicazione è la squadra di pallavolo, l'Emma Villas, che ci dà un ritorno di immagine su un palcoscenico chiaramente molto più ampio rispetto ad altri sport. Però come indole, diciamo, e DNA, la nostra azienda cerca sempre di stare vicino a quello che sono lo sport. E a livello nazionale, ma anche a livello locale, cerchiamo di stare vicino all'associazione per permettere che il bambino che va a giocare ai primi calci a pallone abbia la borsa, ginnastica artistica, nuoto e quant'altro. Quindi, ecco, noi siamo sempre stati da sempre legati al mondo dello sport. Filippo Ciulli, alla concessionaria Pampaloni-Appoggi Bonzi, macchine Renault. Filippo, l'importanza di questa concessionaria, che è un punto di riferimento per il territorio? Certo, sicuramente è un punto di riferimento. Appoggi Bonzi è ormai da tanti anni un'istituzione del commercio di automobili. E niente, penso che anche per noi, anche per Emma Villas, sia una certezza ormai consolidata. Panciocco, siamo da un importante partner dell'Emma Villas UB Siena. Che sensazioni si provano nel venire in realtà che sostengono la pallavolo e il progetto dell'Emma Villas UB? Sicuramente è un onore per noi vestire la Renault, che è da anni tra le case automobilistiche migliori a livello europeo. Sicuramente è anche un piacere poter vedere dal vivo quest'oggi macchine. Sei giovane e hai già avuto modo di farti vedere anche nelle amichevoli, nei test match del precampionato. Cosa ti aspetti da questa stagione e quanto puoi migliorare e crescere? Io cerco sempre di dare il meglio per la squadra, per la società, che dà il meglio di noi. Quindi noi cerchiamo di dare il massimo ogni partita, ogni allenamento per poter avere il miglior risultato possibile. Andrea Truocchio, tra l'altro sappiamo che hai preso la patente da poco. Siamo in una concessionaria d'auto, che cosa pensi nel vedere tutte queste splendide automobili? Sono tutte belle questa auto, però come ne ho patentato sarei più interessato all'Arena Clio, che è una bella marca. Si parla molto bene di te nel panorama pallabolistico nazionale, si dice che hai tanta qualità, che hai tanti margini di miglioramento. Cosa pensi in questo momento della tua carriera, sei ancora molto giovane? Io ho sicuramente molte cose da migliorare e Siena secondo me è un ambiente molto adatto per migliorare a livello tecnico e cercherò appunto di dare il massimo ogni allenamento e riuscire a diventare un buon giocatore.